Il PD biellese fa partire le prime iniziative di campagna elettorale con l'obiettivo di arginare il fenomeno 5 stelle. La provincia di Biella riceverà quest'anno circa 4,7 milioni di euro in meno dallo Stato e intanto la regione Piemonte sblocca i soldi necessari per la strada del nuovo ospedale. Sono in questi giorni in visita nel biellese alcuni delegati macedoni che saranno impegnati in visite e incontri finalizzati a promuovere nuovi progetti. Hanno fatto bella mostra di sé le mitiche 500 coccolate dai loro autisti nel tradizionale raduno che ha avuto luogo a Biella in Piazza Martini. Sarà il paese di Tavigliano protagonista della puntata di oggi di Da Paese an Paese. Il sindaco lancia un appello ai genitori della zona affinché iscrivano i loro figli in paese. Un cordiale buongiorno dalla redazione di Biella, benvenuti a questo primo appuntamento in diretta con l'informazione locale. Come avete sentito dai titoli apriamo con la pagina della politica. Manca un anno alle elezioni amministrative, il partito democratico biellese scalda i motori in vista della campagna elettorale. L'obiettivo è quello di arginare il fenomeno grillo e per lunedì 15 aprile il comitato Renzi ha invitato a Biella il neodeputato Boschetto. Tutti i particolari da Mattia Ferrero. Mentre a Roma Bersagnani e Renziani discutono di come cercare di uscire dalla paludi in cui il paese è finito dopo le elezioni di febbraio, il partito democratico biellese scaldi i motori in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno. A fare da pripista il comitato adesso Biella per Matteo Renzi che si riunisce nuovamente. Un incontro è previsto per lunedì prossimo 15 aprile alle ore 20 a Biella. Guest star della Sarat è il neodeputato Mino Taricco, ex consigliere regionale ed ex assessore all'agricoltura. I renziani dog biellesi Riccardo Lunardone, Max Zegna, Vincenzo Boschetto, Massimo Biasetti, solo per citarne qualcuno, hanno le idee ben chiare. Tentare di imbastire un dialogo con la cosiddetta società civile rappresentata dall'associazione di artigiani, imprenditori, lavoratori. L'obiettivo è quello di arginare il fenomeno Grillo e cercare di intercettare più voti possibile anche del centrodestra. Insomma, la conta all'interno dei Democrats biellesi è appena cominciata. Sul tavolo le linee guida, politiche da seguire nell'immediato futuro, in vista anche del modo per scegliere i candidati sindaci alle elezioni amministrative del 2014. Ma parliamo ancora di politica, 4,7 milioni di euro in meno rispetto all'anno passato. Questa è la cifra che la provincia di Biella riceverà dallo Stato nel 2013. Ed intanto la Regione Piemonte ha sbloccato i soldi necessari alla costruzione della strada a servizio del nuovo ospedale di Biella. Sentiamo. Alla provincia di Biella per il 2013 giungeranno 4 milioni e 700 mila euro in meno di trasferimenti rispetto al 2012. La notizia giunge come una doccia fredda sull'ente biellesi in procinto di redare le linee guida del bilancio preventivo 2013. Sicuramente se ne saprà di più nei prossimi giorni quando la situazione sarà più chiara. Per quanto riguarda invece il decreto sblocca crediti della pubblica amministrazione verso le aziende, Biella e Cossato non sono coinvolti in prima linea. La città capoluogo non vanta crediti verso privati ma solo verso enti pubblici per un totale di circa un milione di euro. Cossato invece deve saldare fatture di circa 10 mila euro, somma questa che la seconda città del biellese ha già in cassa, pronta da spendere. E intanto dalla regione Piemonte, Biella attende l'arrivo di circa 10 milioni di euro tramite il decreto salda debiti. Questi sono soldi relativi ancora al 2003 e serviranno finanziare opere importanti come ad esempio la strada per il nuovo ospedale. E parliamo ancora di sanità. La situazione dei mancati finanziamenti alla Croce Rossa di Biella torna a farsi drammatica. L'ente biellese vanta verso la regione Piemonte un credito superiore ai 500 mila euro. Sulla questione un commento di Vilmer Ronzani, consigliere regionale del Partito Democratico, che si appella direttamente all'assessore regionale alla sanità Ugo Cavallera. È evidente che una tale situazione ha raggiunto e superato il livello di guardie e rischia di mettere in ginocchio il servizio. I comitati Croce Rossa italiana di Biella, Cavaglia e Cossato stanno garantendo un servizio 24 ore su 24, grazie all'apporto di 700 volontari e circa di 20 dipendenti, effettuando circa 23 mila servizi di ambulanza all'anno. Non è più tollerabile, spiega il Democratico, che la corresponsione dei crediti dovuti avvenga con mesi e mesi di ritardo e generando così una situazione di incertezza che rischia di riflettersi sul servizio che viene erogato ai cittadini. Ed ora parliamo di economie di lavoro. Dal primo agosto di quest'anno potrebbero essere a rischio i posti di lavoro di molti installatori operanti nel mondo delle energie rinnovabili. Confartigianato lancia l'allarme e sollecita il Ministero dello Sviluppo Economico. Ce ne parla Emanuele Baiolini. Dal primo agosto di quest'anno potrebbero trovarsi senza lavoro molti dei 57 mila installatori di impianti che operano nel settore dell'energia da fonti rinnovabili. A lanciare l'allarme sul destino che li attende è confartigianato Biella, preoccupata, come si legge da un suo comunicato stampa, dal Decreto Legislativo 28 del 2011, che recepisce una direttiva europea e impone, quale requisito per poter effettuare interventi di installazione nel settore delle rinnovabili, percorsi di qualificazione professionale per i responsabili tecnici delle aziende, sia titolari sia dipendenti. Confartigianato denuncia un disequilibrio per quanto concerne la normativa riguardante le figure professionali coinvolte. Se per i laureati e i diplomati agli istituti tecnici la legge non prevede obblighi di formazione e per i diplomati di scuola professionale impone un corso di 80 ore, non c'è alcun riferimento a titolari e dipendenti in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo e dell'esperienza maturata in anni di lavoro. A questi ultimi, quindi, si nega sia il riconoscimento delle competenze acquisite, sia la possibilità di svolgere corsi di aggiornamento professionale. Per la legge, quindi, è come se non esistessero. Si tratta di una disposizione assurda, inaccettabile e discriminatoria, denuncia il direttore di Confartigianato Biella Massimo Foscale, che impedisce di lavorare a migliaia di imprenditori che da anni svolgono con competenza la propria attività. Soprattutto in questo momento di crisi, una norma come questa si abbatte come una mannaia sulle imprese e sui lavoratori del settore installazione e impianti. Tutto il contrario di quanto servirebbe sia per favorire l'occupazione, sia per contribuire a sviluppare il settore delle energie rinnovabili. Confartigianato Impianti è intervenuta presso il Ministero dello Sviluppo Economico per sollecitare la modifica della legge che presenta profili di incostituzionalità, poiché crea una barriera ingiustificata all'attività imprenditoriale, finendo per estromettere dal mercato migliaia di aziende. Chiediamo che nel decreto legislativo vengano salvaguardati i diritti acquisiti dagli installatori di impianti, non laureati o diplomati, che operano da anni sul mercato e che sono previsti dal decreto ministeriale 37 del 2008. Siamo pronti a far sentire la nostra voce in tutte le sedi istituzionali per difendere il diritto dei nostri imprenditori a lavorare. Abbiamo parlato in apertura di elezioni amministrative, ma c'è un comune nel biellese, quello di Masserano, che andrà a elezioni adesso, a fine maggio. Allora scopriamo chi sarà il secondo candidato alla poltrona di sindaco nel servizio di Andrea Guasco. Incontriamo il secondo candidato alle elezioni masseranesi per le comunali, Luciano Gallotto, che è qui al mio fianco. Cerchiamo di capire il motivo per il quale lei, Gallotto, ha deciso di candidarsi. A molti masseranesi pare, come dire, un po' strano. Dice, ma cavolo, 40 anni di lavoro in comune, adesso vuole continuare a rimanere in comune? Sì, di fatti ho deciso di candidarmi soprattutto per quello, per mettere a disposizione la mia esperienza quarantennale, avendo sempre lavorato in comune. Difatti penso che la maggior parte dei nostri concittadini magari non mi conoscono sulla foto, ma conoscono il Luciano del Comune, come solitamente mi chiamavano. Ho deciso anche questo perché Masserano sta subendo un calo, un po' in tutti i settori. Cioè, non so, si può passare dall'incuria al degrado, tante cose che fanno sì che Masserano non abbia più quel paese civile e vivibile come era anni fa. Quindi entriamo nel concreto. Il programma della sua lista? Il programma l'abbiamo già in gran parte definito, ci sono ancora alcuni piccoli dettagli, però tocca tutti i punti, la scuola, le associazioni, il turismo, soprattutto il turismo, che con le associazioni noi pensiamo di avere un ottimo rapporto. e i lavori pubblici, quello sì, quello ci blocca un po' per il fatto del patto di stabilità, che come ben sapete vincola soprattutto i lavori pubblici. I lavori pubblici neanche nell'esecuzione dei lavori, ma quanto il fatto poi di poterli pagare. Questa era solo un'anticipazione perché l'intera intervista al candidato Gallotto andrà in onda dopo la sigla di questo telegiornale. Ed ora cambiamo argomento. Sono in questi giorni in visita nel biellese alcuni delegati macedoni che saranno impegnati in una serie di visite e incontri finalizzati a promuovere nuovi progetti con il Movimento Cristiano Lavoratori. Ci parla di questo Maria Elena Capra. Biella e la Macedonia, due realtà molto diverse e apparentemente lontane, che però non sono mai state così vicine. Questo grazie ad una serie di progetti portati avanti in primo luogo dal Movimento Cristiano Lavoratori, insieme ad altre realtà del territorio biellese. In primo luogo il Comune di Valle San Nicolao, che oltre ad avere continui contatti con molte associazioni macedoni, ha stretto un gemellaggio con il Comune di Rosuman e ha concluso un accordo con la cittadina di Cavadarsi. Ma i progetti portati avanti dall'MCL vanno oltre. Infatti la Macedonia sta diventando un importante partner nel settore scuola. L'Istituto alla Marmora dei Fratelli delle Scuole Cristiane ha avviato uno scambio con la scuola di Cavadarsi per confrontarsi su metodi e tipologie di insegnamento. Per portare avanti e promuovere questa serie di iniziative, alcuni delegati macedoni sono in questi giorni nel biellese e saranno impegnati in una serie di incontri. Giovedì saranno in visita all'Istituto alla Marmora, dove si confronteranno con il dirigente scolastico e gli insegnanti. All'incontro parteciperanno anche il sindaco di Biella, Dino Gentile, e di Valle San Nicolau, Raffaele Micheretti. Venerdì sarà invece il Comune di Valle San Nicolau ad aprire le sue porte. I rappresentanti macedoni saranno accolti in municipio e verranno guidati in visita alla scuola, fiore all'occhiello del Piemonte, per l'insegnamento in doppia lingua italiano e inglese. Le mitiche 500 hanno fatto bella mostra di sé, coccolate dei loro autisti come e veri oggetti di culto. In Piazza Martiri a Biella ha avuto luogo il tradizionale raduno del club giunto alla decima edizione. Vediamo. Appassionati del Cinquino si sono dati appuntamento in Piazza Martiri a Biella per il tradizionale raduno del club giunto alla decima edizione. L'iniziativa è ideata e organizzata dal club amici della 500 Biella. Nonostante il tempo decisamente poco favorevole, le piccole auto sono arrivate in città da diverse zone del biellese, ma anche da fuori provincia. Le mitiche 500 hanno fatto bella mostra di sé, coccolate dai loro autisti come veri e propri oggetti di culto. La leggendaria utilitaria Due Posti, nata nel 1957 per fare concorrenza alla neonata moto, ha sfilato ieri per le strade della città, ammirata e rimpianta da molti cinquecentisti convinti. Presente e passato convivono nella 500, simbolo della rinascita economica dell'Italia post bellica, ma anche oggetto del desiderio di molti giovani d'oggi. Al volante delle auto del raduno, infatti, tra i tanti ragazzi si nascondevano diverse coppie di anziani e anche qualche famiglia al completo, stretta nel piccolo abitacolo dell'utilitaria. Restiamo in campo automobilistico perché da oggi è arrivato praticamente il bel tempo ed è ora di togliere le gomme invernali. Abbiamo chiesto consiglio ad uno specialista del settore. Sentiamo. Ci troviamo con Claudio Bergo per fare un po' il punto della situazione sui pneumatici. Oramai l'inverno è terminato. Con le gomme da neve che abbiamo consigliato a quest'inverno, con i fondi, l'asfalto freddo, i fondi srucciolevoli, si possono usare anche d'estate, però chiaramente la gomma estiva fa meno attrito e poi è bene conservare quelli invernali con un battistrada migliore possibile per l'inverno. Sì, ormai l'inverno è finito, quindi le gomme invernali possono essere smontate, tranne chi va ancora in Val d'Aosta, perché in Val d'Aosta l'ordinanza dice fino al 30 di aprile. Però da noi ormai le gomme si possono montare. È vero che le gomme invernali della nuova generazione non hanno controindicazioni di periodo d'uso, quindi teoricamente si potrebbe utilizzare anche d'estate, però una gomma invernale usata d'estate non ha la tenuta, la performance di una gomma estiva. Infatti per assurdo una gomma invernale d'estate sul bagnato tiene meno di una gomma estiva. Quindi l'ideale è sempre avere le gomme giuste nel periodo giusto. Quindi ora vanno smontate. Ecco Claudio, la gomma estiva ce ne sono di diversi tipi, diverse marche? Sì, oggi di gomme ce n'è di tutti i tipi, di tutte le qualità e di tutti i prezzi. Anche perché ormai è in periodo di crisi, quindi con le offerte e comprandole nei momenti giusti si trovano le gomme di marca, ormai ad un prezzo veramente interessante che forse non vale neanche più la pena di comprare. Per la poca differenza non vale più la pena di comprare un prodotto di seconda linea, un prodotto cinese. Ecco Claudio, proprio sulla gomma estiva dove magari chi guida chiede delle performance maggiori all'auto ogni auto praticamente ha un po' i propri tipi più o meno adatti con battistrada differenti, con le spalle di durezza diversa quindi diciamo è essenziale il consiglio del gommista per una buona scelta. Sì, ormai ogni pneumatico di marca ha all'interno le due linee, quindi a volte anche tre quindi c'è il prodotto da chilometraggio, la classica gomma che noi consigliamo ai rappresentanti e c'è la gomma invece sportiva, la gomma quindi come dicevi tu a base larga con le spalle rinforzate e c'è anche a volte la via di mezzo, quindi il prodotto sportivo ma non troppo quindi diciamo che oggi più che la marca, bisogna essere molto bravi nel consigliare il tipo di pneumatico giusto adatto alla guida della persona stessa quindi ormai i pneumatici sono quasi fatti su misura sulla persona bisogna capire che la persona che si ha davanti e soprattutto capire il modo di guidare di questa persona per consigliarla nella migliaia di modi. Ecco Claudio, una cosa importante sempre sul pneumatico come diciamo i freni certi organi della macchina sono di vitale importanza per la sicurezza anche il pneumatico, una cosa che forse non tutti si ricordano che non bisogna farlo diventare troppo vecchio Il pneumatico per la sicurezza della macchina è fondamentale perché è l'organo che lega il pneumatico alla strada quindi io posso avere dei freni favolosi, dei dischi di freni magnifici, delle pastiglie, dei freni super performanti ma se poi non ho un pneumatico che è quello che mi lega all'asfalto di alta qualità tutti i miei freni vanno a farsi benedire quindi il pneumatico è fondamentale ed è anche vero che il pneumatico dopo il 3-4 anni chiaramente la mescola indurisce e perde le sue qualità magari sono ancora molto belle da vedere ma non hanno più nessuna trita, nessun problema più aderenza quindi sul bagnato anche se belle diventano pericolose Ed ora è mercoledì, torna la rubrica Da Paese an Paese questa settimana siamo andati a Tavigliano dove l'unico problema sembra essere le iscrizioni alla scuola elementare Sentiamo Ci troviamo a Tavigliano, comune della Valle Cervo, a 10 km da Biella scopriamo dalla nostra inchiesta com'è la vita qua in questo piccolo comune È un bel paese, tranquillo Manca qualcosa? Per il mio no, da parte mia non saprei cosa dire adesso Lei ha un bar, clientela ce n'è? Sì, abbastanza, sì sì Comunque è un paese tranquillo, poco movimentato Tavigliano è un bel paese, tranquillo, collina Paese da venire ad abitare E lei dov'è che abita? Toronco E vorrebbe abitare qua? No, abito, sto bene dove sto Però le piace Tavigliano? Un bel paese, sì, con i boschi, subito un bel posto Mi piace, è un paese tranquillo La misura d'uomo? Sì, la misura d'uomo, sì, poi ci sono comodità I servizi ci sono tutti? Sì, abbastanza, diciamo Ci sono due negozi, ci mancano soltanto i giornali del tabacchino però per il resto va tutto bene A me piace moltissimo Infatti sono contenta di venire qua a lavorare perché è un paese veramente dove si può ancora vivere bene soprattutto per le famiglie con bambini offre una possibilità di essere ancora a contatto con la natura è un paese molto ben gestito offre ancora un servizio scolastico di ottima qualità perché i bambini hanno possibilità di avere la scuola materna la scuola primaria qui nel loro paese quindi trovo che siano fortunati a vivere qui Gino Mantello, sindaco di Tavigliano Plebiscito, il comune da lei ha amministrato è davvero a misura d'uomo e piace i cittadini forse un unico neo sono le scuole come ricordava lei a microfoni spenti in qualche modo c'è un problema per quanto riguarda le scuole del paese? C'è un problema quest'anno per quanto riguarda la classe prima elementare in quanto in quell'annata lì i bimbi nati a Tavigliano sono solo tre abbiamo sempre accolto e accogliamo tuttora bambini dai paesi vicini dalle frazioni di Andorno, da Saliano, da Tollenio quindi rivolgo un appello alle mamme, alle famiglie dei bambini dei paesi vicini affinché portino i bambini qui a Tavigliano è una scuola bellissima, è una delle più belle del paese più belle sicuramente della provincia di Biella mantenuta sempre bene da tutte le amministrazioni sono stati investiti molti soldi negli anni quest'anno abbiamo più di 100 bambini tra materna ed elementare abbiamo più di 100 bambini abbiamo per esempio la scuola materna che è un esubero di bambini abbiamo 32-33 iscritti mentre invece come dico i primi elementari sono solo tre speriamo che qualche bambino da fuori venga per poter fare la classe il comune come dicevo ha sempre investito per la scuola anche quest'anno andremo ad investire una parte dell'avanzo di amministrazione in quanto c'è la fognatura da rifare dobbiamo fare il bagno dei disabili nella scuola materna investiremo lì circa 40.000 euro per questo lavoro abbiamo partecipato come comune al bando regionale già due anni fa per un bando volto ai risparmio energetico il comune italiano è stato ammesso come finanziamento nella prima tranche non rientravamo sicuramente rientriamo adesso nella seconda dovremo quindi quest'anno prendere questi soldi per andare a sostituire tutti i seramenti della scuola materna e della scuola elementare il tempo è tiranno solo gli annunci per gli appuntamenti di questa sera alle ore 21.30 su Retebiella e Telebiella in onda una nuova puntata di Pianeta Sport con una lunga intervista al ciclista Paolo Alleva e poi alle ore 22 il classico appuntamento di mercoledì con il filo della storia e in questa puntata si tratterà l'argomento di Amnesty International con questo è veramente tutto grazie per averci seguito a tutti voi una buona giornata e arrivederci grazie a tutti